Vogliamo fare la bella padellata di uova? Uova in padella. Uova? Uova? Sì. Allora, dieci uova. Tu le uova le mangi? Me le dai, me le mangi. Assicurati che siano fresche, eh? Tu le agiti. Se sono fresche, te le piglie. Se no, desisti. Come le vogliamo fare? Con la mozzarella? Sì, facciamole con la mozzarella. Le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare mezzo chilo di mozzarella di Aversa, freschissima. Assicurati che sia buona. Prendi queste dita, premi la mozzarella. Se colo il latte, te la pigli. Se no, desisti. O che altro?